Ascoltate un attimino, cosa dovete fare? Ah mio via, io farò partire una baciata, magari che non la sapete parlare Allora, vi mettete come se stesse a parlare? Allora, cosa dovete fare? Allora, senza togliere l'abbraccio, sia l'uomo che la donna Devono cercare di scoppiare il palloncino della coppia avversaria Utilizzando i piedi, non distogliete l'abbraccio Fermo, 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 quando parte la baciata ve lo dico io Allora, sì, siete tutti contro tutti Quindi siete tutti contro tutti, vince una sola coppia Allora, attenzione Attenzione ragazzi, non partire, non partire io Farò partire la baciata Non partire, oh Fermi, eh Se no se cosa non risulta Fermi, fermi Ci siamo? Allora, faccio partire quella, sapete quella baciata che fa? Win the night, scam e da da Faccio partire queste qua, quando io dirò? Tre Ragazzi, quando io dirò? Tre Due, uno, via Cominciate a fare muschitteria Attenzione Attenzione Attenzione, vi do io il dia Fermi 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 Quattro Tre Due Uno, poi insieme Puoca, puoca a fortuna Puoca a fortuna Puoca a fortuna Puoca a fortuna Allora, lo faccio dire agli sposi, chi è stato l'ultima coppia? La coppia è formata da? Allora, avete vinto un viaggio per due persone, da fare a marone malati, appena. Allora, un applauso, vabbè, tornate ai vostri posti, che io voglio andare d'accordo con i miei amici camereros, se nulla ne faccio ci avvicini giù, giusto? Tornate ai vostri posti, tanto il tempo ce l'abbiamo, aiutate buono, ma ci vuole non gireremo stasera, giusto? Brava, benissimo.